Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radiobari in studio Silvia Salgono a 7 le vittime dell'influenza in Puglia, l'ultimo caso la scorsa notte nell'ospedale San Paolo dove è morto un 47enne e l'acme della curva epidemica è in crescita e attesa per le prossime due settimane Le vittime dell'influenza in Puglia salgono a 6, l'ultimo caso la scorsa notte e l'acme della curva epidemica è in crescita e attesa per le prossime due settimane Non sono incoraggianti i dati forniti questa mattina durante la giornata di aggiornamento organizzata dall'ASL barese sul tema Numeri che però consegnano una regione, quella pugliese, non ancora in emergenza 21 i casi gravi registrati a fronte dei 199 nazionali, cifre ben lontane da quelle del 2009, anno della pandemia Un virus dell'influenza A, l'H1N1, certamente aggressivo ma che con il vaccino potrà essere facilmente debellato Non è da dimenticare infatti che il 77% dei decessi segnalati al sistema a livello nazionale presentava patologie croniche preesistenti Una buona campagna vaccinale avrebbe sicuramente evitato questo andamento e facciamo ancora in tempo seppur prima del picco epidemico che ci aspettiamo per le settimane prossime a ridurre i casi gravi Sotto la lente di ingrandimento questa mattina anche il numero dei posti letto disponibili a fronte di quelli invece necessari Stiamo cercando di dare sul divenere uno sfogo ai posti letto in più che già ci sono nell'ambito della medicina aumentando i posti letto di 10 posti letto su Trigiano, sulla medicina di Trigiano e sulla pneumologia che è ancora allocata presso Trigiano Monopoli da 14 sta passando a 24 posti letto Ovviamente contestualmente stiamo cercando di reclutare il nuovo personale perché quello già esistente è già stanco e ha bisogno di aiuto con ricambio proprio fisico Ripartirà da zero il processo barese sul calcio scommesse relativo alle presunte partite Truccate dei campionati di serie B 2007-2008 e 2008-2009 Salernitana Bari del 23 maggio 2009 finita 3 a 2 e Bari Treviso del 10 maggio 2008 finita 0 a 1 Vendute dai calciatori biancorossi secondo l'accusa per complessivi 220 mila euro L'udienza odierna lottava dall'ottobre 2013 è saltata perché è cambiato il giudice I difensori degli imputati non hanno dato il consenso al rinnovo degli atti 18 gli imputati Ed ora torniamo a parlare della vertenza Oshan E' ancora in corso il tavolo tecnico tra le parti nella sede del comune di Trigiano Ed Oshan che aveva annunciato la propria assenza quest'oggi ha compiuto un passo in avanti in servizio La discussione tecnica tra sindacati e parti è cominciata poco fa Quindi per qualche risposta concreta bisognerà attendere il pomeriggio Ma il primo passo in avanti è già stato compiuto Treviso Inter, Expert e Ipersimpli dalle 12 di questa mattina sono riunite attorno allo stesso tavolo Nella sede del comune di Trigiano E anche l'assente eccellente Oshan che neanche 24 ore fa aveva affidato ad un comunicato stampa L'annuncio della propria defezione ha fatto un passo anche se non completo Prima dell'incontro infatti alcuni suoi consulenti hanno incontrato in privato il sindaco di Trigiano Vincenzo De Nicolò Una mossa che però non convince i sindacati che continuano a dichiararsi amareggiati per questa assenza È in dubbio che la giornata odierna deve essere una giornata produttiva Io l'ho detto anche ieri La presenza di Oshan oggi sì era sicuramente d'impatto Ma allo stato attuale delle situazioni nonostante abbiano preso degli impegni con noi Qui devono comunque lorare perché vi vogliamo ricordare a Oshan Che le organizzazioni sindacali ci sono nel bene e nel male Niente numeri per non dare i numeri dice il primo cittadino che delega a ristretti tavoli Futuri l'accordo dettagliato fissato nero su bianco Ma i numeri servono e subito Fino ad ora infatti gli unici spiattellati sono quelli dei lavoratori che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro 119 Oggi credo che sia arrivato il momento di passare dalla protesta alla proposta Perché abbiamo avuto 20 giorni di non partenza Non abbiamo più tempo per pensare Oggi l'impegno che le organizzazioni sindacali accolgono con la massima responsabilità di una concretezza È chiaro che nessuno oggi si può illudere di trovare una definitiva soluzione Siamo disponibili a determinare quello che potrebbe essere un protocollo operativo Ma che necessariamente vedrà successivi passaggi tecnici Sono in 200 i familiari dei disabili gravi che oggi hanno manifestato sotto il palazzo del Consiglio regionale Per rivendicare i propri diritti Tentano di bloccare la delibera della giunta regionale Che sancisce l'esclusione dei disabili gravi ultra diciottenni Dalla riabilitazione sanitaria in regime diurno Da tre mesi le famiglie sono riunite nell'associazione CON Correre oltre le nuvole Maxi sequestro di sigarette al porto di Bari Il carico di Bionde era nascosto a bordo di un tir proveniente dalla Grecia I dettagli dell'operazione condotta da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane Nel servizio di Cristina Ferrigni Proprio approfondendo i controlli si è scoperto come le caldaie fossero dei semplici involucri E sono risultate contenere un'ingentissima quantità di sigarette di contrabando Il carico che abbiamo sequestrato ieri avrebbe fruttato sul mercato clandestino oltre un milione di euro Era nascosto nelle tre caldaie destinate ad una ditta spagnola il carico di sigarette sequestrate nel porto di Bari Oltre sei tonnellate di tabacchi lavorati esteri scoperti dai finanzieri del gruppo Bari E dagli uomini dell'Agenzia delle Dogane durante un'ispezione su un tir proveniente dalla Grecia Utilizzata per il controllo un'apparecchiatura radiogena in grado di rilevare difformità impossibili ad occhio nudo Nelle caldaie 32.500 stecche di bionde, marca Malboro, Royal e altre meno note sul mercato nazionale Arrestato l'autista del mezzo, un cittadino greco di 48 anni Alta l'attenzione delle forze dell'ordine nell'area portuale considerata zona sensibile per i traffici illeciti Come spiega il dirigente dell'ufficio Dogane, Tommaso Musio C'è un'attenzione molto alta da parte di tutti gli organi istituzionali presenti nel porto di Bari E verso la security innanzitutto e poi la sicurezza fiscale E il sequestro di oggi in materia di sicurezza fiscale ne è l'esempio La ripartizione servizi demografici rende noto che da domani presso la delegazione ufficio Anagrafe Stato Civile di Torreamare in via Monte Seibusi 2 Riprende il servizio relativo alle variazioni di indirizzo temporaneamente sospeso E più volte richiesto dai residenti negli scorsi mesi Gli interessati potranno prenotare online un appuntamento direttamente con l'operatore comunale E recarsi con tutta la documentazione richiesta presso l'ufficio Anagrafe nel giorno concordato E' attesa per il primo grande appuntamento dedicato agli appassionati delle due ruote Dal 22 febbraio la fiera di Levante ospiterà la rassegna Bici in Puglia Le novità in questo servizio Oltre 70 espositori sono direttamente i produttori che vengono a Bari E quindi si pone in concorrenza con fiere similari che si tengono presso altri quartieri feristici Ci saranno tutti i complementi come ho detto Oltre alla Bici ma la Bici è anche abbigliamento, è anche accessorio, è anche turismo Sono le novità di Bici in Puglia il primo grande appuntamento per gli appassionati delle due ruote Che si terrà alla fiera del Levante dal 20 al 22 febbraio prossimo La rassegna organizzata da SNIM e patrocinata da Regione, Comune e Camera di Commercio E' dedicata agli appassionati della bicicletta nell'ottica di una città che si ispira ai modelli di mobilità sostenibile Come spiega il sindaco Antonio De Caro a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento Bari è sicuramente una città a misura di piste ciclabili Nei prossimi 5 anni abbiamo intenzione di realizzare 30 km di piste in più rispetto ai 18 già realizzati E abbiamo programmato un biciplan per 190 km di piste da realizzare nei prossimi anni Tutti i fine settimana fino al 15 febbraio sul palcoscenico del Teatro Forma Andrà in scena Morte tua, vita mea, un classico del repertorio dell'anonima GR Il servizio è di Barbara Cirillo Tutto incomincia dalla fine, da una morte che morte non è e non sarà Morte tua, vita mea appunto Una serie di colpi di scena e un mucchio di risate targate anonima GR Lo spettacolo ritorna sul palco del Teatro Forma dove andrà in scena per i prossimi weekend fino al 15 febbraio Tiziana Schiavarelli, la moglie che aspetta la morte di suo marito Rino Ceronte Interpretato da Mimmo Pezole per riprendere i soldi dell'assicurazione e vivere il resto della sua vita felice Insieme al sedicente ragioniere, uno dei tanti personaggi sulla scena interpretati da Dante Marmone E lui infatti il vero jolly, la vera anima dello spettacolo Lo si vede comparire sulla scena davvero in tutte le vesti Con il parrucchino del ragioniere, con un taglier fucsia della futura padrona di casa In abito talare ma soprattutto nei panni della morte Piuttosto smagrita e con tanto di occhiali da sole Un doppio spettacolo che ha registrato il sold out Perché l'anonima GR è ormai una garanzia di comicità autentica e risade pure Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore Cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 8 e 11 gradi Eventi moderati, mare poco mosso In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e infochiocciola ilsegnodizorro.it Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito A più tardi con informazione di Telebari Il telegiornale finisce qui, grazie a tutti